Grazie Presidente, ne userò molti di meno. Io volevo rassicurare il consigliere De Priamo, un conto sono le battaglie che si combattono sui territori e quelle sono sacrosante, però poi ci sono anche delle battaglie istituzionali che vanno fatte. Ora, visto che ad oggi ancora non è stata rivista la posizione dell'ospedale Grasso, non è stato inserito in questi laboratori ad elevata complessità.